Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, bentornati per quelle che mi seguono già, andiamo avanti con i tutorial natalizi oggi volevo mostrare una simpatica campanella in feltro, facilissima, semplicissima e super personalizzabile da appendere al vostro albero come decorazione oppure da utilizzare come segna posto o chiudipacco iniziamo subito dalla sagoma che la ricavate da un quadrato 12x12, io l'ho già preparata, in feltro grosso 3 mm appendino, un po' di gavetta fina color avorio, circa 20 cm, metto a misura, colla in centro e in alto, applichiamo poi due rametti di pino piccolini, 6 cm, ho tolto il gambo di ferro, taglio via anche questi qui che non ci servono colla laterale su entrambi i lati, applico decorazione centrale, io userò una renna in legno, voi potete usare qualsiasi cosa che avete o che vi piace vi ricordo che trovate i nostri materiali sul sito il diamanteshop.com mentre come al solito tutte le misure riferimenti qui sotto nell'info box fiocchetto, raso stampato, anzi nastro stampato scusate sono 1,5 di altezza per 40 cm fiocchetto al volo blocco con un po' di nastrino fino, ecco il raso dove era andato a finire con un pezzettino di raso, un qualsiasi altro nastrino che avete giusto per bloccarlo perché poi andiamo a chiudere il nodo con una decorazione allora procedo incollo in centro facciamo fare presa ulteriori fiocchettino sempre in gavetta fina come l'appendino sempre 40 centimetri altro fiocchetto al volo più piccolino applico in centro chiudo il tutto con il sonaglio allora intanto mettiamo a misura quello stampato quello di raso se volete lo lasciate altrimenti lo tagliate più corto facciamo i due nodini sulla gavetta cordino tagliamo via applicamo sonaglio chiudo con due stelline per crearmi lo sfondo adesso io ho già preparato anche altri decori ecco qua la mia campanellina è pronta super facile, super semplice da appendere all'albero, ripeto, o come segno posto allora, altri esempi qui ho utilizzato un cuore in corteccia quindi siamo sul tema cuori che a volte vedo che fate gli alberi pienissimi di cuori quindi potrebbe essere un'idea sul grigio chiaro avorio sempre con il cuore e il ciondolino o perché no in panna nuvolato sempre con la renna bene ragazze grazie per aver guardato il video spero vi sia piaciuta la mia idea grazie a tutti ciao e alla prossima